A questo punto pensavo di essere in un altro posto, perché ho visto il ferrarese con la D.I. della Fishman e ho detto, cazzo, deve essere successo qualcosa in tutti questi anni, perché di solito, no, era un appunto che c'è altro tra me e lui. Ho trovato l'unica cosa che facesse suonare questo strumento quasi naturale. E poi l'acceggio lì. Questa è l'ultimo disco che abbiamo fatto insieme. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.